Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul canale Doppio Passo Scusate la location amatoriale ma sono in albergo e sono fuori per una settimana Quindi non ho tutta l'attrezzatura che mi serve, diciamo il video sarà abbastanza breve E molto coinciso e soprattutto scusate se l'eliminazione non è delle migliori Questo è un piccolo video per fare un piccolo resoconto appunto di queste tre di finale che sono finiti ieri sera Abbiamo quindi le 8 squadre che si sono qualificate che sono Turchia, Germania, Spagna, Olanda, Portogallo, Francia Inghilterra e Svizzera Diciamo che abbiamo sbagliato quindi la Olanda dove avevo pronosticato la Romania e l'Italia Dove avevo pronosticato la Svizzera Il Portogallo come vi avevo detto è stata una partita difficile infatti è stata l'unica partita che è finita i rigori E cazzata abbiamo sbagliato anche l'Austria contro la Turchia che mi ha stupito Mi ha stupito, sapevo che sarebbe stato un etapa equilibrato sicuramente Non pensavo che la Turchia avrebbe vinto Invece la Turchia si è dimostrata e ha confermato di essere la mina vacante di questo torneo Considerando che se andrà a giocare la semifinale contro l'Olanda potrebbe anche, cioè i quarti di finale potrebbe tranquillamente arrivare anche in semifinale Quindi abbiamo i quarti di finale che inizieranno venerdì subito con il botto con Spagna e Germania Io lo dico qui Per me chi vincerà tra Spagna e Germania arriverà in finale contro... Secondo me, ripeto ragazzi, vi ho detto che mi prossimo la vincente Per me, io vi avevo messo l'Inghilterra Continuarvi a dire che vincerà l'Inghilterra sicuramente sarebbe come avere i prosciutti davanti agli occhi Perché l'Inghilterra non sta... non sta emozionando in questo torneo Se dovessi dirvi forse... meglio la Spagna Però è tutto da vedere, ovviamente Quindi... I miei pronostici che vi lascio qui per i quarti di finale sono questi Tra Spagna e Germania io credo che per me, a sorpresa, passerà la Germania Perché vi dico a sorpresa? Non perché la Germania non può passare Ma perché molti adesso stanno andando per scontato che la Spagna vincerà gli europei Secondo me però la Germania, almeno in semifinale, ci arriverà Non lo so ragazzi, ho questa sensazione La Spagna è molto forte ma... Ho paura che possa uscire contro la Germania Io spero che passi la Spagna Ma ho questa paura Mentre tra Francia e Portogallo, per me passerà la Francia Se così dovesse essere, si troveranno in finale poi Germania e Francia E la Germania potrebbe anche arrivare in finale Potrebbe arrivare in finale Mentre dall'altra parte del tabellone abbiamo l'Inghilterra, la Svizzera, l'Olanda e la Turchia Io penso che la Turchia potrebbe fare la sorpresa Quindi occhio alla Turchia Sicuramente sarà una partita da gol Sarà una bella partita dove entrambe le squadre potrebbero passare Se devo sceglierne una, magari scelgo l'Olanda Essendo una squadra un po' più rodata Con un po' più di giocatori già affermati Però non mi sorprenderà affatto se la Turchia arrivassi in semifinale Anche se non credo molto nella superstizione Quindi una Turchia che arriva di nuovo in semifinale Dopo aver vinto un girone con Portogallo e Pubblica Cieca Come nel 2008 Non lo so, non credo molto in queste cose Quindi se non le passerà l'Olanda Mentre tra Inghilterra e Svizzera Io mi auguro che passi l'Inghilterra Per me la finale, come io vi avevo detto Io vi avevo detto che sarebbe stata Inghilterra-Olanda Probabilmente Inghilterra-Olanda potrebbe essere la semifinale Comunque per me ai quarti di finale Passeranno Germania, Francia, Inghilterra e Olanda Quindi adesso sicuramente passeranno Spagna, Portogallo, Svizzera e Turchia No, comunque a parte gli scherzi Io penso che saranno queste squadre a passare in semifinale Ovviamente la Spagna può passare con la Germania Diciamo che sono dei quarti molto equilibrati Perché la Germania e la Spagna possono passare entrambe Il Portogallo e la Francia anche L'Inghilterra può tranquillamente perdere contro la Svizzera che ci ha cacciato L'Olanda e la Turchia sono due squadre che secondo me non si equivalgono ma quasi Quindi è molto difficile quest'anno veramente andare a fare i pronostici su questi europei Perché il livello è molto... Sono molto livellati diciamo E quindi non ci sono queste squadre che sono nettamente più forti delle altre Sono molto curioso di vedere la squadra della Spagna contro una squadra come la Germania Che non la tenderà in difesa ma che finalmente si troveranno davanti appunto Una squadra che li andrà a prendere nella loro metà campo E che non gli concederanno il 75% di possesso palla Come in tutte queste partite E per questo ho qualche dubbio sulla Spagna Perché sono sicuro che sia molto forte Senza ombre di dubbio ma ho voglia di vederla contro una squadra del suo livello Quindi ragazzi questi sono i miei pronostici dei quarti Vi ricordo per me passeranno Germania, Francia, Inghilterra e Olanda Scrivetevi per i vostri pronostici, ditemi cosa ne pensate E mi raccomando seguitemi su Instagram, seguitemi su Youtube, su TikTok Per rimanere sempre aggiornati sul mio canale Telegram E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!